Ehm... 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 Le pancucche li giravano, no? La casa a casa... Insomma... Ehm... Ehm... E quindi... Ehm... Sono stato sempre ben accorto in questo sestiere quindi... Non potevo dire di no. E lo faccio un grande piacere perché so di parlare di opere di grandissima qualità di grandissimo valore tra cui... quelle che si trova qui sopra di noi e quelle che naturalmente si trova in passato ai romani. La chiesa stupenda, meravigliosa tra le più belle di Ascoli dove i cicli storici, vittorici, artisti, si sono... Così... alternati lasciando delle vere e proprie belle di... di bellezza. Tanti cicli... Tanti cicli perché la chiesa appartiene stile... Diciamo... Esteriore quindi un po' eh... Testimonianze rigate al romanico scolano con presenza addirittura anche alla fine del periodo romano non romano ma romano dove... Quelle modi granito che sono dentro sono... appartiene sicuramente a... un tempio che... eh... si trovava da queste cose qui a tutti. Vabbè... E... E quindi una chiesa contenitore di tante cose molto bene. Ricordo poi da ragazzino che ne conteniva ancora ma molto ancora di più perché nella Sacristia c'erano eh... di grandissima quantità eh... che poi eh... sono state trasferite eh... la collezione della biblioteca scolana sapete che la chiesa non appartiene alla cura ma appartiene al comune quindi queste opere sono state avvistate da Luciano in quella direzione va bene questo è un po' per rendereci un po' la chiesa la comunità di Piozzo eh... ha subito vicende storiche eh... legate una storia di Ascoli di grandissimo interesse ehm si può dire che sto a ripetere periodi storici che si sono proseguiti e comunità eh... che eh... hanno eh... eh... la movita diciamo questa... questo sì cominciando dalle benedittine padesse poi eh... parlare diciamo delle che avvisse eh... via via poi la sostituzione con i dati di olivetani e quindi la partenza di cui ci sono testimonianze in questa direzione sempre legate alla comunità benedittina ora eh... la chiesa come ci si presenta oggi in fratto eh... chiaramente non è quello che era proprio perché ha lasciato sulla sua pelle sono testimonianze è... è una chiesa che ha lasciato proprio le tracce oggi ci appare più in una testa parocca e proprio eh... citare diciamo trattare molto velocemente eh... per affrontare queste cose che vi parlano un piccolo giorno un grande giorno io lo farò molto rapidamente per molti gli altri cercando di arrivare diciamo a... concetti anche e quindi ha lasciato la pelle diciamo molto assoprattutto nel secento e ha capato dal secento al settecento con un grande trittore eh... allora è scolato naturalmente eh... Dormazio Dandini che poi ha lasciato questi secchi molto forti però ci sono anche presenze che risangono anche a... i secoli e questi purtroppo non sono visibili io spero che eh... so che ci stanno facendo dei lavori molto importanti per poter accedere a questi affristi eh... che sono di grandissima importanza e da ragazzino già è stato c'era stata questa scoperta eh... pochi anni che io potessi vedere nella prima volta eh... passando attraverso la scava nel Campanile si entrava attraverso un unico e si andava a finire andate bene sopra la zona presbideniale eh... proprio si vedeva la punta della croce del ciponio che è e e ricordo che si facevano un incorsente e si rischiava cantiguita di sfondare tutto e finire piccati però io ricordo come se fosse adesso eh... così a lume di candela non dicendo niente naturalmente il parolo si faceva tutto di nascosto una partita che si è andata assolutamente queste cose io adesso ma intanto ve lo faccio vedere eh... sono eh... affreschi di eh... straordinarie potenza i poteri che sono rascosti e ecco appartengono a vedere da un uvicesimo dodicesimo e ve li faccio un dato vedere eh... ma si trovano proprio sui pareti eh... capire il significato perché bisogna capire una cosa che il taburo diciamo della zona presbiteriale era molto più alto naturalmente se vuoi guardare la chiesa da fuori non risponde all'altezza che si ha da dentro e quindi era eh... 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 il taburo diciamo alto eh... 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 quindi affrescavano eh... illustravano in una maniera straordinaria la parte alta della tamburo della torna eh... eh... da qui dobbiamo partire per poi immaginare cosa poteva esserci sotto e per poi arrivare a capire quello che c'è rimasto eh... e quindi eh... 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 presentare questi due profetti notati i coloi notati i risultati e poi ecco alcuni ci sono pervenuti in maniera diciamo meno danneggiata e questo trattamento è quello che è un passo che è collegata diciamo una parte della volta con il collegamento del campo immaginatevi la grandezza anche di queste affresche, che erano grandissimi che si dovevano poter vedere da sotto, dalla zona presbiteriale tenete presente che allora il presbitero in realtà si trovava giù, in basso non si trovava, nella stessa occasione di cui si trova oggi, perché la parte dell'altare fu trasformata in maniera così, non dico scelerata perché per tempo molte cose con l'inanzamento della zona presbiteriale, ma per tempo sicuramente anche raffreschi che si trovavano sotto che hanno di mano per la rete brecci e questo si può dimostrare quindi gli altri giocomotei e poi io li ho risolvati un po' per farvi cambiare la struttura diciamo pittorica di tutta questa volta ora sono stati studiati anche da studiosi di valore e di qualità e però i pareri sono risconti si pesa si pesa dall'opinizzandine che di un pittore di un artista molto curato in mente che aveva ben digerito ma molto bene delle lezioni di strutturalismo pittorico e dico strutturalismo pittorico per cercare di farmi capire perché di questa bellezza e di questa grandezza se noi iniziamo alla struttura ecocorporea di questi meravigliosi personaggi dove i maledici seguono le strutture anatomiche del corpo di questi due personaggi e le restituiscono una grande monumentalità io ho visto tantissimi pittori tantissime opere risalenti nello stesso periodo anche diciamo molto distanti da noi ma vi assicuro che questo concetto di monumentalità di forza di intensità di forza interdore e di immagine che si trasferisce poi direttamente a chi vive non è cosa comunque anche perché a freschi risalenti a questo periodo ce ne stanno pochi in giro e questo già la dice Luca perché perché arrivare e con la fortuna non si capisce che abbiamo arrivare ai nostri giorni in questo bellissimo stato anche se possono sembrare massacrati le vicende diciamo del 1600 ce le hanno salvati e ce le hanno custoditi al buio per bene conservati no e quindi oggi riesce di essere seguiti in maniera brillante dove la tecnica vittorica immaginate il vennello che genera queste rumeggiature era una mamma molto felice e incisa senza incertizia una qualità vittorica e turistica di grandissima qualità non voglio non osso assolutamente fare riferimenti anche se dentro di me ci rio convincimenti perché già sono tante le teorie legate a questi personaggi sono stati studiati nel fondo che dicevo quindi quando verranno spero prestissimo messi a confronto diciamo di altri studiosi sicuramente potremmo dare una conlocazione sia nel tempo che nella storia dell'arte giusta pensate anche che molti artisti molti critici e storici dell'arte non ne hanno ne visti purtroppo non sono mai stati visti nemmeno da quegli storici diciamo che sicuramente potevano darmi una collocazione un giudizio più vicino più certo perché non vedo grandi personaggi e le vicende della storia dell'arte contemporanea che possano giudicare in maniera certa un luogo così importante e così difficile io ricordo due anni fa quando venne perdinato Polonia e soprattutto qui era già vecchio sicuramente non poteva rammigarsi su ma Leone De Gasclis che già lasciando quei viatti che poi pubblicheremo fra due mesi è tanto conto portarlo su per farvi vedere ma mi riservo di ricondurcelo sicuramente per farlo rimarrà sicuramente bene non non vi devo incontrare però pensate a questo scrigno che è questa chiesa che nasconde c'era queste preziosità dovete adesso immaginare che non può ripare i campi della famiglia c'era che si prendeva potenza e secondo me sono state poi sovrapposti diversi città più di due e quindi forse i esami più attenti passato potevano rammigarsi cose grandiose purtroppo tra di noi purtroppo anche la storia deve svolgere nessuno trascorso nei nove cicli nel seicento nel settecento molte pareti delle camare laterali sono state sostituite gli affresi sono stati sostituiti da altari targo barotti no e ti hanno atto per nostra fortuna povere anche su tela tra i maggiori pittori che ci tolava in quel periodo non ne trattiamo qui perché paghiamo solo gli affresi ma Marat era un artista che a Roma aveva seguiva le grandi comunità religiose i grandi papi Giacinto Brandi tutti quegli artisti canini tutti quegli artisti che sono ora presenti negli artari a Roma io ricordo quando portavo i miei a Roma per ogni artista presente in questa chiesa li portavo a vedere cicli vittorici importantissimi quindi cosa accadeva accadeva questo che gli originali avevano con contatti con Roma che li permettevano poi di avere in città lavoro e co-opere di prestigio proprio perché avevano rapporti molto stretti soprattutto gli artisti come la barra ma immaginate che per Edith era una chiesa ricca di opere di grande grandissima fatica alcune si sono svilate un secondo strato forse non è di grande qualità ma sotto sicuramente c'è l'erogante mi piace anche far potare una cosa che questa chiesa e questo diostro sono stati assaliti proprio in quello senso della parola dai francesi quando sono venuti in Ascoli cioè i gruppi francesi che diciamo di israeli che inizierono a ferro al fuoco la città si impossessarono dei luoghi religiosi per mettere le caserne naturalmente per mettere soldati per mettere anche se ci restarono poco però anche qui uno presente uno presente è questo povere che su quelle mani della dicono lunga perché quando andavano via e per fortuna non le hanno pittettate in alto perché quando venivano immaginate ecco un salone come questo che veniva tenete presente che con i francesi veniva anche il malo francese si diceva ma una povertà non francese non ci siamo capiti l'occhio diceva che all'arrivo dei francesi il giorno dopo veniva un carro con i costituti che c'erano le decente dell'esercito i francesi si spostavano e con le costituture normalmente si portavano ognuno parti e finire e cosa accadiva che questi vari erano consumati no e che si faceva quando si andavano si passavano la gara si passavano la gara per disinventare e quindi le marie di soprattutto basse venivano pacificate per disinventare le musiche ma questo lo so per questo diostro che questa chiesa ma anche tante altre diostre bellissime nella città noi c'erano 17 insieme 17 17 di chiocco spavarazzare vedono circa 8000 ripartirono in 1700 perché la mattina papà si suonava la droga e si andava anche perché si esistono tutto si faceva il copia si andava a cercare la gente dopo le strade i soldati che mancavano si partivano gli settori restavano in astro perché perché in frattempo si erano innamorati di qualche fanciulla scolare oppure erano stati custoditi e nascosti nelle famiglie ecco però non è ecco perché l'impuenza soprattutto anche nella nostra lingua nel nostro dialetto è presente questo francesismo o dicono romanesco ma questa anche un po' c'è c'è qualche cadenza un po' francese ma questo non c'entra niente ma per dire come ecco questi locali e la chiesa sono stati aggrediti nel senso della parola dalle vicende anche la storia ma questo non solo è esatto ma anche di l'impuenza dell'impuenza ma andiamo avanti cerco di andare veloce ecco e questo è un altro apparete in società dei fatti non sentite io di tutti voi questo frammento di affresco che si trova nella parete destra appartiene una cosa semplicissima c'è poco da girare a loro appartiene era un monumento finché come ce n'è un altro che tra poco vedremo appartiene appartiene alla barri perché è anche quando è vista dal dedicato ad un accesso saccoccia perché era parente era parente ora si vede nella parte del suo errore barbare bello che è molto è steso no è barica e sotto queste allegorie queste due allegorie questi due personaggi perché uno stringe un vaso e un altro si dice una guilla a centro c'è aggressiva ha fatto pensare tanto le cose tecniche i segreti diciamo legali la magia tutte queste cose ma nella maniera anche assoluta che ciò ma è anche assolutamente perché la rappresentazione è molto chiara la rappresentazione di allegorie era molto frequente opera di questa cosa molto probabilmente gli allievi di coloranatrice certo non di cloma la rappresentazione non poteva naturalmente entrare nella cosiddetta logica della ruola della traccia però gli eserci dei panneggi alcune espressioni si può riconoscere forse una mano a cui i cartoni ma certo erano simbologiche legate alla morte al trascorso della morte il vaso come il contemigliore di saggezza come il contemigliore della vita l'afflato della vita per capire un vaso diceva Gustavo che bisogna essere vaso che nessuno può capire l'altro sono noi stessi che sappiamo come siamo fatti e coscientemente possiamo capire quali sono i misteri della nostra spiritualità del nostro io quindi c'è questa impressione di questo venerato che sta stringendo il vaso della vita della patria sopra poi al centro c'è lo stemma acido della famiglia da morte questo è stato verificato effettivamente mentre l'amica che stringe l'altro mediano che è una proposta è la che sta a significare che il personaggio in questione è una persona molto scientificamente preparata che riconcriva molto probabilmente i suoi studi soprattutto verso gli astri verso la scienza del ciclo al centro c'è questa classifica tipica elemento secondico del trasporto che non c'è dove finisce proprio da fare in esonato quindi se qualcuno tenta letture esoteriche così fantasticherie di questo genere tornitevi subito la mente perché potrei citare una ventina di ore in quel periodo che portano gli stessi simboli tranquillamente senza seguire si non lo sento bene c'è il bianco bianco sotto sì sì questo è un 20 c'è ok 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 commesso e chissà che cosa, fatto l'ogcesso, donna e invece dipinto. Quindi l'illusione, la cittura dell'illusione. Il Giauglio, la battista Giauglio, padre Corso, abbiamo detto prima, le grandi illusioni architettoniche. Se uno entra dentro la chiesa di San Ignacio a Roma, c'è questa illusione di uno sfondamento architettonico del soffitto, quindi si vendeva a qualsiasi condizione architettonica. Quando l'alletto viene a contenere lo spazio, proprio per definirlo, è oltre alla tracchettura, è oltre a definire e racchiudere lo spazio. Qui arrivava il pittore, si metteva a qualsiasi condizione. Ora, queste ombre che si fanno provenire dall'altro c'è, sono di mille, ma siamo in un sfondamento che c'è. Allora, ci sarà un chiesa, un chiesa, un chiesa, un chiesa, un chiesa. Cansato, l'ha visto queste cose, era visto e poi, per andare a studiare a fondo, abbiamo un deciso. Poi, questo ha un ripristato, un artista, che secondo me è uno dei più grandi artisti assolani, che è Ludovico Trazia, che merita una riqualificazione, una rivettura di Ludovico Trazia. Andiamo a benvenire un artista di oggi in quattro, che già studiato sui psicologi. Poi diceva, vabbè, iniziamo a scuola. Quindi dicevo, Trasi, Paesco del Dardini, proveniva dalla scuola del Sancho. Naturalismo romano. Trasi, perciò che possiamo parlare adesso, perché non è presente in questa chiesa, però è presente in grande sequace di Sancho. Nella patria di Santa Romana, abbiamo nella panela di una patria sinistra, abbiamo un sequace di Sanchi che aveva frequentato il senato Lippo Trazia, la scuola del Sancho. Quindi abbiamo tutto presente, in effetti, le grandi scuole ce le abbiamo. Ma dicevo, da chi è imparato di affrescare la volta. Già c'erano le grandi scuole. E vi dirò di più. Ormai è accertato che ci fossero anche delle opere di cosa. È un termine. Forse regno spegnerlo questo. Vedi da qui? Eh, si spegnero, si, sembravo così, si. Eh, lo spegnero. Guarda, sentite, no? Si. E lei è, e comincia, diciamo, a dirigere questo ciclo. Perché non l'ho fatta lunga la cosa? Per farlo raggiustare di più, per capire ancora di più quel ciclo del cesso. Eh, non è da, eh, di tradire solo l'aspetto pittorico, ma è quella macchina costruttiva, l'apparato pittorico che attoglie l'opera del cesso. Ah, per il tutto, opere bellissime del Mardini, che è naturalmente il San De Viglio, perché questa lista di Ascoli, dove si vede loro le ore, il gruppo, il gruppo, il gruppo, il gruppo, fino alla fortissima mia, bellissimo. Un panneggio, un perro, monumentizzato, come quello dei, eh, dei profeti di Ascoli, questo, 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 bellissimo. E poi, dall'altra parte, c'è il San Silvestro, la riacchia, eh, San Silvestro, primo, primo papa, dopo, dopo, il dito di Costandino, il papa è il mio, da San Diego, eh, San Silvestro è il primo papa, dopo questo, bellissimo. Poi, ecco, qui si vede solamente la mozione. Lui affronta, questo, per esempio, Foti la notte, pure bellissima. Questa conto lo fa già, non c'è, eh, l'estasi di San da Sicilia. E' bellissimo. Guardate, va bene. E' bellissimo. Si può sapere, si può sapere, si può sapere, ci sono gli angeli musicanti, ma non c'è una delle pagine più belle, più belle, più bellissima, più bella di tutto il resto. Poi questo ciclo, non c'è una delle pagine, eh, questo ciclo, ah, ma c'è una delle pagine più belle, per l'altro, per quello che si vede, e si vede un po', eh, siamo certi che la vista che ha avuto degli affresti, degli auguri a Roma, no? Quel vomitare, diciamo, dal cielo dei, eh, dei, dei devoli che venivano cacciati, diciamo, no? Cioè, no? C'erano sfidi, oltre, gli angeli rivelli, perché non sfidi, oltre, la, i limiti, il spazio avventura. Ma andate in grado a queste cose, questi fissuri, eh, che hanno le 11 a 12 anni, sono bellissime, le altre tecniche, posso restare qua, ma sono stupendo. Ma questa foto dal passo, c'è, ci dà l'idea dentro della pagine, la macchina pittorica, che è la pagine. Il fondo dimacolata, Concezione. a guarda con Gesù a guarda con Gesù a guarda con Gesù esaltare la figura la mia guerra è un dovere nella storia religiosa dopo il congelo di Cristo avevano visto i figli di immagolare la situazione quindi la chiesa riafferma, vuole riaffermare la figura mariana al centro bellissima le chiese italiane si riempiono di figure mariane non se ne parla male del barocchio non se ne parla male del barocchio perché è un ciclo pittorico veramente straordinario ci sono sì pessime cose ma ci sono bellezza a ruffinire che vengono da questo periodo dall'uncica post-intendita poi il sacrificio dell'angelo di vino e dei versi di quelli là le civile quelli ci sono delle illusorie finestre dove vedete le linguaggiature appunto questo apparato decorativo no? che racchiava la storia satra ecco le finezze funzioni vendono questi arazzi che danno delle storie del Vento Testamento tutto questo apparato decorativo illusorio fu fatto dal coronacirone chi era il coronacirone? il coronacirone era il quadratugista personale di padre Pozzo veniva dalla più grande scuola quadratugista di Sistema Monacirone ma per esempio cos'era il quadratugista? il quadratugista preparava al pittore tutto questo apparato decorativo festoglio queste invenzioni di decorazione poi arriva il pittore che all'interno dello spazio che si lascia dicendoci noi le scelte stagioni e le scelte stagioni e quindi allora presenta il coronacirone il corso di Sistema Monacirone nasce un grande il quadratugista di Sistema Monacirone era originario di Ponte e ecco questo è il quadratugista questo è il quadratugista questo è il quadratugista questo è il quadratugista per chi abbiamo dei Sacchi cosa lo rivela questa operazione rivela proprio la partenza alla grande scuola dei Sacchi dove l'ombra proiettata dalla luce va a proiettarsi sul mondo se voi vedete nel quadro dell'olipotrasi che si trova a San Pedro Martire il miracolo di Soviacco va bellissimo quello che si trova appena a sinistra in San Pedro Martire da parte della piazza a sinistra vuol dire guardate bene il miracolo di Soviacco si vede sulla Madonna l'angelo c'è anche la mandalena e poi dalla proiezione della luce dell'angelo va a proiettarsi sulla Madonna e qui c'è il raso una cosa naturalista qui sembra aver imparato con potenzione da una vista che vedeva da una paranzia che mi chiedeva è il sacchio che lo risulta è la paranzia di una paranzia di una paranzia di una paranzia quindi si andiamo qui e adesso è tornato è tornato qua non è tornato come? veniva la cosa veniva la cosa non ci dobbiamo preoccupare no? va bene no? si 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 San Giovanni perché era praticamente pessimo San questi si trovavano esattamente attorno al presbiterio dell'Ora che fu demolito e quindi nei quattro anni c'erano i fattivangelisti per fortuna ne erano conservati ma questa è un'altra storia che ci vorrebbe a fare la risoluzione ma qui si possono vedere poi anche qui queste lumeciature dorate di cui vi parlo un'altra pittura parietalica che conoscete benissimo che si trova sul fondo è di Sebastiano Valencia il monumento di Pugbe Pre a Caminano Giuccio Sancho che era il fratello il fratello il fratello il fratello il fratello Sanchocea è stato un grande anche tutta la famiglia Sanchoce addirittura vede essere un grande valore che hanno fatto campagne di ritali di grande importanza Sebastiano Visi uno dei tre fratelli che volevo vorrei perdere Sebastiano dice questo monumento ma lo stava monumento sono per esempio tanto il cesso si chiamò un po' quando si trovava esattamente qui e ora c'è adesso la ora quel monumento naturalmente compatte voglio ripetare invece se lo di mettere questo locale che era uso di cui nasceva la musica sacra ragazzi del 500 600 e quindi la voce del sacro la musica del sacro e del prima le chiesi di musica straordinaria più bella la musica che mai un uomo abbia conceduto la musica attraverso e quindi bisognava sbaglio ne sbaglia sicuramente eh non vedo chi può superare la bellezza della musica di banchi e di e quindi bisognava montare questo la tra la parte del organo che presentò subito tanti problemi a non finire questo office si trovava qui fu demolito al locale e un sistemato dopo molte dimostranze addirittura alleari della famiglia vantese perché saccoccia a verra è prestato servizio verso la famiglia vantese e presso anche i bambini questo questo è lo sistema dei farmesti questo è lo sistema dei farmesti questo è lo sistema di santoccia accedo c'è quello degli ultimecani che viene ripetuto qui con i trettori e le croci e e e e a destra c'è lo sistema di astoli l'apparato architettonico di illusorio diciamo anche qui nel dico con questo libro molto pronunciato c'è la figura del giro saccoccia chiedato in armi figliando due bellissimi cammini ma sicuramente il pittore non è successo come lo suggeriamo forse che gli artisti che hanno operato dentro è quello che ha fatto più fatica ad esempio essi però nel 1616 se bastiano che essi che erano comunali come gli altri dottori stacchisti a parte dei fratelli non bisognava farselo sfuggire attento peppe che adesso arriva il piede che non puoi sapere bene questa cosa che voglio la sabbia se bastiano che essi non ci facciamo scattare perché perché erano questo il petto e l'hanno portato davanti a questa per la frutta quindi era terminato il piostro e gli si dice se bastiano che essi ci vuoi fare la prima punta della storia di San Benedetto e lui fa quella che adesso vedete nel più e nel più che poi spiega l'ugnano con l'unico di con pianza e lo mi mi dà uno subito appena finito c'era pienanza nell'edificio tra le altre se ci va di caso non era un aumento era una fresca termografica e fu chiaro l'unico 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 andrea 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 cancellò l'unico 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 sopra questo tendo bene è questo che mi capite ma forse che lui andrea l'unico ridominciò e fece la lunetta come queste che seguiranno tendo sotto le bianchie illusorie certo molto grande delle dure di illusione e dipinse lo stesso soggetto della nascita di San Benedetto all'unica come le altre poi passò qua bellissimo passò poi l'unico dentro che passò ma guarda che aveva fatto che questo poi un povero che si non si non si non si non si non si lo dico solo ma non si prevedo non sono io non sono tu non sono io ma i Santetti la lettura definisce della linea inizierà anche due maggiori pittori nel trapasso da questo genere sarebbe una grande l'opera facendo un volo è stato grandissimo e pensate che a di guido i cicli grandi a Roma il Santa Maria Maggiore non è una cosa ha fessi non questo sei divertito a fare queste cose ha fatto cose grandi cose illusioni anche pesaggistiche di grande qualità sarebbe un cazzo io c'è un po' è un po' di interessante quindi rifece questa qua piccola poi fece la seconda la spiego la terza e l'altra è quella che come è ricente quando fu restaurato eh che questo era fuggito questa spiegata riuscì fuori tutta questa roba assoluta allora si pensò mi staccato devo trovare dentro alla sagristina questa robita spero ci sia ancora e si preferì giustamente perché diciamo il passo così dice che il che si voleva creare era di grande monumentalità no a pieno a pieno genio poi si si ridusse diciamo a fare semplicemente quindi fu distaccato perché avete fu distaccato lì portato là poi c'è dei pezzi adesso partiamo queste robure e poi da lì poi e poi da lì francesco francesco fiorelli da fermo da fermo lo sicuro ci sia la differenza tra le ove il lì e quella di fuori che chiusero un livello di questo ci fate caso anche i cartigli sono diversi e continuo per gli altri altri che avrebbero sicuramente bisogno di un forte prestato una forte pulitura perché non esplodono veramente i gatti costanti e la pulitura la pulitura acqua o sicurezza basta semplice pulita mentre questo ciclo di affresti furono seguiti lo sai lei ha un grande restauratore che non diceva seguì questo ciclo di affresti molto interessante dove qui si vede dopo la nascita che vedete lì là c'è il viaggio molti confondono se credetemi lo rispondono chi per San Benedetto ma queste manate San Benedetto è quello che conta laureola vedete al centro e si rega quindi insieme alla sorella scolastica a Roma a Roma si vede lo scorcio di Roma con la con la traiana dove si vede il fiume intero allora si gradivano diciamo rendere come dire visibili con queste alte folie anche i fiumi poi qui San Benedetto che si trova esattamente qua a sinistra a monte si credono che ho sentito una spigazione erano andate a raggi per la cadere orecchie qui dentro tu non c'eri no non lo ricordi dove individuava il San Benedetto è il che si trova che spiega diciamo l'ideologia e lui nella storia di San Benedetto accade questo invece che lui segue questo ciclo di lezioni e si studisce moltissimo però gli allievi che aveva vicino a sé erano molto scammati erano veramente risubbidenti infatti si vedono questo a destra e in basso che si rapprega lontanamente da quello che sta dicendo il maestro questo stanno scherzando e per fortuna l'angelo veglia alle spalle di Benedetto giovanissimo ancora e lo protegge diciamo da le cattive compagnie qua si vede invece poi uscito il studio si dà l'erenità di San Benedetto la conoscete la storia finisco qui perché se no andiamo qui a mezzanotte dove a Subbiaco si include diciamo la montagna di Subbiaco una grotta per fare meditazione e qui riceve come sembra il cane le tentazioni da parte dei demoni ma c'è questo peato adesso non mi ricordo che si chiamava che lo battizza e lo lo legge da tutte queste detas svinaggio della misura e quindi si scuola quelli e poi via via lui il resto ma io non ho più voce mi sento a stare e quindi mi fermo qui però tenete presente da qui in poi qui si ferma lì sotto bisognerebbe quelle scappellature sembrino per far adivinare come bisognerebbe sondare sondare la mia parola qua sotto ebbene che stava che stava in parola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.